Da Presidente della Nazionale Cantanti, qual è l'obiettivo di questa serata? Eguagliare il record del 2015, superarlo? Guarda, il nostro Direttore Generale qualche settimana fa gli è sfuggita il desiderio di arrivare a 2 milioni e mezzo di euro. A me andrebbe già bene i risultati due anni fa perché Torino due anni fa e tutta l'Italia mandando gli sms ha risposto alla grande. Io sono orgoglioso dal punto di vista nazionale, come loro mi hanno eletto e sento solo la responsabilità di fare almeno il 50% di quello che hanno fatto i precedenti presidenti. Mi auguro, se arriviamo ai 2 milioni e mezzo che ha detto il nostro Direttore Generale sarei felicissimo, ma non per me, proprio per la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e per la Fondazione Teleton. Però mi auguro soprattutto che la gente continui a volerci bene, come lo stanno dimostrando in questi anni, perché fare solidarietà è una questione culturale e vengono a vederci che non siamo capaci di giocare. No, io non sono capaci, lui è fortissimo e il fatto che la gente continui a venirci a vedere giocare dimostra il fatto che noi siamo dei privilegiati perché riusciamo, facendo una cosa ludica, a portare serenità alle famiglie che poi sono coloro che usufruiranno del lavoro dei ricercatori. Altre eventi in programma con la Nazionale Cantante? Il 17 giugno giochiamo ad Andria, sempre ammesso che il fiato regga. Noi riparliamo domani, però la certezza è quella di questa sera. Chi vincerà stasera? Non lo so, lo capiremo subito dopo i primi dieci minuti, secondo me, perché non so esattamente poi quanto le squadre in campo siano equilibrate. Diciamo che non è la cosa prioritaria di questa partita, come sappiamo, il risultato. Quindi anche di questo ne parleremo dopo. Grazie. Grazie. Grazie.